ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video ed eccoci qua con un'altra simpatica puntatella natalizia dedicata ai vostri orologi ormai siamo sotto le feste si sente quell'atmosfera di bontà che si taglia col coltello siamo tutti più buoni più bravi e io ho addobbato la postazione di comando secondo i vostri gusti voi vi piace il natale e noi abbiamo di tutto ci abbiamo l'alberello ci abbiamo gli addobbi e ci abbiamo il simpaticissimo bravo bravo il nostro babbo natale canterino che ci ha rallegrato la serata e ora possiamo tranquillamente dare un'occhiatella ai vostri simpatici orologi alle vostre collezioni come fare lo sapete mi raccomando ci sono anche le cartoline natalizie adesso e quindi ci possiamo divertire alla grande ora vi mostro l'orologio del giorno che anche sotto le feste è questo simpaticissimo rolex yacht master 40 mm quadrante blu sfera dei secondi rossa calibro 32 35 ghiera in platino proprio roba da lusso grasso che cola è un orologio simpatico fa il suo fa il suo dovere affabile ora io mi metto in forco gli occhiali il ditino inquisitore pronto dà il colpetto sulla barra spaziatrice e chi si è visto si è visto ciao davide sono andrea da caserta caserta ti racconto la mia collezione allora preciso subito che qui non troveremo pezzi super pregiati anche perché sono ragazzo studio faccio lettere moderne per cui ecco più che altro questi orologi sono il frutto di risparmi e tanta tanta dedizione ma certo parto con il primo si tratta di un quarzo l'unico che ho acquistato un sego 65 30 laddove per questa sigla si intende chiaramente il movimento al quarzo 5 rubini che lo anima al suo interno ma c'è io ti faccio fin da subito notare questo indice al 12 che pur essendo i numeri romani insomma si fa direi più che apprezzare belle anche le sfere adoffen come dicono quelli bravi che sono tra questi per cui te le chiamo semplicemente sfere a delfino però secondo me il dettaglio principale sono proprio queste anze che conferiscono all'orologio veramente tanto carattere bello chiaramente anche il cinturino un cinturino coevo siccome io l'orologio l'ho acquistato in condizione nostra in una fase in cui tra l'altro neanche conoscevo il significato ecco di questa definizione infatti è proprio da questo momento in poi che io inizio ad appassionarmi e chiaramente mi direziono verso il mondo vintage dato anche il mio budget estremamente ridotto capisco certo che al polso fa veramente la sua sporchissima figura eh con la camicetta così a righe guardalo lì è bello dai ma molto carino complimenti come primo acquisto va benissimo cioè tra l'altro hai preso un orologio al quarzo no senza sapere niente né come che ha anche un certo valore storico dai un secco al quarzo di così ci sta cioè mi farebbe piacere anche a me averlo in collezione poi uno ha 2000 orologi un po' non lo mette mai allora a quel punto perché lo devi avere in collezione per fare una collezione dedicata magari agli orologi al quarzo di secco di quel periodo capito? se no così presi a caso tanto per non mi dà soddisfazione differente se te hai iniziato così ce l'hai l'hai preso va bene ecco fin da subito che si tratta di un mondo pieno di insidie per cui studiare diventa l'obbligo nel frattempo vado dai nonni alla ricerca comunque di una perla nel cassetto trovo questo secco un quarzo a cui io applico questo cinturino lucertolato è già secondo dai altra perla sempre dal punto di vista sentimentale chiaramente di questo che parlo mi viene regalata dalla madre della mia ragazza la cassa è di 36 mm per cui forse possiamo definirlo jumbo anche in realtà siamo al limite placcato in oro 10 microns aggiungo io aftermarket questo cinturino lucertolato l'aspetto secondo me più rilevante è proprio l'assenza del marchio di fatti indagando comunque smontando il fondello ho scoperto che questo orologio è animato dal calibro unitas 6340 unitas era un'azienda che forniva i propri calibri e ti avvolta anche le proprie casse ad aziende terze le quali avrebbero poi inserito il proprio logo ho scoperto tra l'altro che anche la stessa Panerai deve avere incassato unitas nel corso della sua storia sì ma arrivo al momento in cui realizzo di essere pronto per il mio secondo acquisto e di fatti dopo il secco acquisto il mio primo carica manuale tra l'altro come l'orologio precedente questo è uno splendido universale GENEVA ALTES raffinato ed elegante secondo me è un esempio perfetto di dress watch complice anche l'assenza della secondina e il diametro contenuto di soli 32 mm bello 32? molto caratteristico anche il quadrante vorrei riuscire a rappresentare in video questa trama verticale che è spettacolare non so se riesco è un po' chiaro il video ma certifico che dal vivo è letteralmente wow ad ogni modo il cinturino ovviamente non è originale però anche lui è un vintage tra l'altro con questo simpatico simpatica clasp in lamierino io in realtà questo l'ho acquistato in attesa comunque di individuare il cinturino Quevo quello insomma corrispondente all'orologio salvo poi rendermi conto che questo ci sta molto bene anzi come piace dire a molti su questo canale fa il suo io sempre metti mi prendo una licenza poetica perché aggiungo che insomma lo fa maledettamente bene tanto è vero che ho poi perso interesse nel cercare quello Quevo mi piace questo e glielo lascio non ha neppure senso cercare il coevo coevo vuol dire dello stesso periodo quindi vecchio no vecchio come l'orologio un cinturino che giunge da quel periodo l'are come è distrutto cioè in qualsiasi caso anche se fosse tenuto maniacalmente in una cassaforte ha perso tutte le sue caratteristiche di elasticità di funzionalità cioè diventa un pezzo di cartone credo che non sia utilizzabile quindi andresti a questo qua ci sta molto bene perché poi rastrema anche tanto è veramente sottile è perfetto secondo me non è che devi fare i salti mortali per avere il cinturino cioè negli orologi vintage l'ultima cosa da considerare è il cinturino originale cioè è impossibile bracciale sì se si riesce ad avere un orologio con un bracciale in metallo originale che si presume possa essere aver resistito tutto questo periodo allora sì cinturini ragazzi non ci possiamo far conto ci mettiamo quelli che capitano l'ultimo forse vorrei soffermare l'attenzione sullo spessore di questo orologio di questa cassa perché è questo secondo me il vero punto forte si tratta infatti di un orologio estremamente sottile grazie anche al calibro di manifattura di Universal Genev 1.42 ecco che monta al suo interno di qui poi passo ai prossimi acquisti comprerò orologi che andrò poi a rivendere il primo sarà un Altus di Glissini in cassa compressor placcata in oro 20 micron questo poi seguirà un Glissini Combat Sub che io sceglierò da 36 mm visto anche il mio appunto background vintage decido poi di spostarmi verso un nuovo rischio di scoprire comunque orologi chiaramente moderni e dal diametro più ampio e di fatti procedo poi con l'acquisto di questo Oris Diver 65 calibro S-Lita S-P200 bracciale fintirivetti molto comodo perché rastrema se non sbaglio fino ai 14 ad ogni modo insomma un gran bello orologio non sto qui a dilungarmi più di tanto perché già lo conosciamo eh sì bello assai l'ultimo è il fiore all'occhiello della mia collezione bravo Nomos Club Sport da 37,5 si tratta di un regalo fatto dai miei nonni in occasione della mia laurea anche se devo essere sincero nel momento in cui mia nonna ha comunque espresso il desiderio di regalarmi questo pezzo magnifico ecco io in realtà non me la son sentita di dirle il prezzo per intero per cui le ho riferito la metà salvo poi aggiungere io la seconda metà quindi la parte mancante ad ogni modo ma che carino che sei stato allora io per lì pensavo che la nonna è possibile che conosce Nomos non è che può andare ora gli faccio il regalo gli regalo un Nomos sana seppia la nonna cioè con tutto rispetto che gli orologi che ci sono di pregio no al giorno d'oggi a meno che non sono super appassionata però nel 99% dei casi non lo può sapere quindi pensavo tu mi volessi dire l'ho imbeccata gli ho detto di prendere il Nomos e me l'ha regalato ok ci stava invece no hai fatto una gentilezza suprema dicendole che costava la metà del prezzo per poi metterci te l'altra metà sei stato sei stato un signore sei stato un signore diciamo la verità anche perché insomma costicchiano cioè regali va bene non so le possibilità economiche delle persone non si conoscono mai fino a un fondo ma anche lo il disagio di dover spendere tanti soldi in un orologio per una persona che non è appassionata dice ma perché vuoi un regalo così costoso no rimane un attimo però hai fatto bene bravo dopo che importa perché per me questo resta il regalo fatto dai miei nonni io però vorrei qui raccontarti questo insomma in maniera diversa rispetto ai precedenti più che altro partire dal retro ecco così dovrei riuscirci ti presento il duv 3001 21600 alternanze 43 ore di power reserve ma io in realtà ti lascio ammirare queste decorazioni magnifiche a code geneva in realtà anche del perlage che fa da sfondo sempre se la camera riesce a catturarlo insomma un calibro di manifattura strabiliante molto molto accattivante tra l'altro noi nomos la conosciamo anche soprattutto per questo che riesce ovviamente a rendere lo spessore di questo orologio quasi ridicolo chiaramente invece per quanto riguarda il quadrante che seppur bello ecco dinanzi a quel retro passa chiaramente in secondo piano sotto queste luci artificiali sembra blu blu ghiaccio ma in realtà è un verde petrolio ecco forse è proprio in questa angolazione che riesco ad avvicinarmi il più possibile alla vera tonalità non hai fatto delle belle riprese ad ogni modo vorrei anche a questo punto spendere due parole sullo stile del quadrante qui il richiamo al mondo del Bauhaus è inconfondibile anche se vorrei dire la mia perché avendo studiato anche altri segnatempo ecco di questa tipologia non so come l'impressione che sia stato limato quasi svecchiato ecco ringiovanito forse è anche per questo motivo che apprezzo particolarmente questo orologio pur non essendo un vero e proprio amante di questa scuola ad ogni modo mi avvicino a parlare del concreto con il bracciale si tratta di un bracciale comodissimo che forse nasconde l'unica pecca di questo orologio ovvero una clasp assolutamente lucida che è ottimamente ingegnerizzata ma attira i graffi poco importa perché come insegna tra l'altro lo stesso Cecchini l'orologio perfetto non esiste e se questo è l'unico difetto ce lo facciamo andare bene Davide la mia collezione finisce qui io mentre ti lascio una panoramica ne approfitto per farti i migliori auguri visto che mentre registro sei prossimo al traguardo dei 100k grazie e spero di aggiornarti al più presto anche perché la scimmia qua è affamata ma consapevole non voglio ecco che il tutto si riduca in mero possesso quindi un saluto a tutti e love 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 allora 4 vintage di cui 2 e quarti un bel diver 65 di oris e un nomos un 6 e mezzo ti do un 6 e mezzo quantità ridotta un paio di quarti che pop va bene 6 e mezzo forse anche 7 dai 7 ti do 7 ti do 7 perché il nomos lì è quello ecco se io dovessi scegliere un nomos in collezione sceglierei quel modello lì col bracciale così quel quadrante lì quel bel calibro lì sinceramente mi piace come dici te l'orologia perfetto non esiste ora te sei andato a pescare la clasp lucida la scatoletta lucida va bene ci sta ora io ti dico un consiglio un suggerimento puoi anche metterci una pellicola trasparente protettiva io sto iniziando ad applicarla su certi orologi questo qua ce l'aveva già quando l'ho preso ce l'ho lasciata in modo che quando ti appoggi insomma da tenerlo abbastanza da preservarlo ma non ci vedo niente di male non ci vedo niente di strano secondo me è positiva come cosa è una pellicola trasparente che non si vede neppure preserva poi l'altro è il driver 65 che mi piace che conosciamo che apprezzo tantissimo e poi insomma dai due vintagini due quarzetti un set tutto dato per il nomo specato che eleva di molto la qualità della collezione complimenti prossimo video ciao Davide sono in Chiaro da Milano ti presento la mia collezione partendo dall'orlogio Perseo Perseo dato in dotazione dalle ferrovie italiane a mio nonno immagino intorno agli anni 70 l'orlogio è veramente molto vissuto e distrutto ma ci tenevano comunque a conservarlo ma bello è l'acciaio la cassa passiamo a questo mega Seamaster questo appartamento mio padre è stato oggetto di una piccola restauro vetro cinturino chi era originale corona fondello anche questo molto vissuto mi piacerebbe bello bel quadrante bel colore bel colore si mi piace promosso Perseo un po' particolare siamo nel 1984 questo è un orologio della Ciaika ditta russa di orologi posta nella città di Uglic questo penso è stato acquistato con mio padre nella piazza rossa a Mosca nei magazzini gum nel 1984 proprio un pezzo così di famiglia in piena epoca sovietica quella del vero soviet 1984 un alto l'ascito un longin facci vedere 30 millimetri 30 veramente piccolo per il mio pulso un po' di fioritura nel 40 sto cercando anche questo di conservarlo al meglio stile stile back con la sua fibria placato meccanico carica manovare questo è un Lorenz demografo del 1994 con calibro le manie uno dei orologi regalato a 18 anni ho cambiato il cinturino poi col passare del tempo perché insomma era non era più presentabile ma molto vissuto ma mi piace ancora tanto per anche questo so per quello che rappresenta ma si dai un po' di brio mettici su dai brightling siamo antares automatico siamo torna agli anni finie anni 90 prima anni 2000 anche questo è stato oggetto poi di un molto utilizzato è stato oggetto di un ristauro il fondello appare comunque ancora nella sua bellezza e si insomma un un brightling abbastanza pulito ecco per gli standard della casa diciamo di sì ora è tocalisto ma non è un cronovero è un solo tempo sono confuso prolex esplore 2 anno 2002 referenza 16 7 0 portato poco cercato sempre di conservarlo nel limite del possibile non è un bel motivo per dire portato poco perché ho cercato di conservarlo nel limite del possibile significa che ti sei limitato nell'utilizzo per paura di rovinarlo non è questo il concetto per il quale uno si deve prendere un orologio secondo me voglio dire stiamo gli attenti cerchiamo di non rovinarli ok qua c'è ancora la pellicolina non mi va che si graffi mentre faccio queste stupidate qua ok però non lo uso perché sennò si rovina no è come la nonna quando c'era il il divano ti faceva sedere in terra col cello eh no sul divano non ci siedi perché sennò si rovina ma allora che minchia hai preso a fare ti fai sedere in terra mettiamoci un paio di sedie di legno e guardiamo la televisione sulle sedie no è uguale per preservarlo non mi piace il concetto mi spiace una insomma con un bracciale vecchio stile insomma bello bello mettilo in cassetta va insomma va sempre il suo sempre il suo perché eh ce lo fai vedere ogni tanto così ce lo fai annusare poi non lo indossi eh vabbè passiamo un po' agli orologi moderni adesso eh vai dai Hamilton American Classic il braccialato da me cinturino è un elemento h10 bello cinturino eh un bel fondello non mi faceva impazzire braccialato e quindi ho messo questo cinturino cercando di bello 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 figlia sua veramente bello cinturino me lo dico l'altra volta questo contrasto fra il nero e verde ma contento te dai un po' di briga su velocità dai scattare orient no 40 nuovo questo avrà un annetto non neanche di sbollinare anche questo ribraccialato perché mi piacciono i cinturini morbidi cinturino morbido Citizen Citizen Suiosa questo bel colore beige quasi rosato simpatico bel bracciale ma sì piace tanto ci piace questa e tutto mi ha fatto appassionare ai Citizen ai Citizen certo Citizen dai è simpatico lo conosciamo non sperticarti in parole perché sarebbe troppo infatti Promaster comprato usato anche questo ribraccialato mi piace il colore verde mi piace la leggibilità mi piace il peso mi piace il fondello mi piace veramente tutto che razza di Promaster è questo mai visto 100 metri automatico boh boh cazzo però orient bambino 39 con questo quadrante con qualche tonalità sul verde sull'acqua marina ma insomma anche sul grigio ma dove li vedi mi piace sto bene anche con sto bene anche con con l'abito insomma e poi arriviamo forse all'acquisto più diciamo sofisticato tra questi ultimi visti powermatic 80 silicio bello il movimento bello il vetro non mi fa impazzire il bracciale ma insomma ci sto provvedendo a cinturino e niente bello mi piace mi piace questo grigio mi piace veramente tanto pochezza di termini ti ringrazio un saluto a presto ciao 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 oh bello così stringato non ha lasciato trapelare alcuna emozione due parole messe in croce e ci ha descritto gli orologi e vabbè ci sono anche questi amici del canale così timidi oppure magari erano in una situazione in quale non voleva farsi sentire dal prossimo no non lo so però vabbè ti do 6 e mezzo cosa vuoi che ti do questi orologi qua raccontati così per come le raccontati il più il più importante è quello che usi di meno perché vorrei di rovinarlo è giusto che ti ritrovi con con un 6 e mezzo cioè non non ho certo da dire è Hamilton Berlin i cinturini dell'Orient Zuyosa della Citizen Bromaster stranissimo che non l'ho mai visto sarà boh è l'Orient bambino 6 e mezzo dai su il suo gentleman Silicium sì sì un 6 e mezzo te lo sei meritato niente di più sei promosso sei promosso sei contento poi è Natale sono bravo ciao Davide buonasera sono Ferdinando filmando questo video dalla Puglia sono qui con mio figlio il mio piccolo Andrea che ti saluta ciao Andrea parto subito con la mia collezione di orologi ho un po' di brio dai ci siamo su dai il primo orologio è questo quarzone un Casio F91V orologio che utilizzo prettamente al lavoro infatti è pieno di graffi e segni e vabbè sopravviverà tante tante dai successivamente mia moglie mi regala questo Citizen Bromaster l'archetipo del Bromaster si orologio che io definisco porto sicuro nel senso che magari una persona che si affaccia al mondo degli orologi automatici con un budget tra virgolette irrisorio può portarsi a casa comunque un ottimo orologio questa è con la configurazione quadrante blu e ghiera nera orologio veramente solido stranamente è uno dei più precisi che ho in collezione e capita è la botta di fortuna ragazzi successivamente prima dell'aumento dei listini acquisto questo Hamilton Kaki Field automatic da 38 mm 38 configurazione con il cinturino in pelle orologio molto versatile simpatico pieno di riflessi infatti molte volte è difficile anche fotografarlo però nonostante i riflessi ha un'ottima leggibilità un vero field watch anche la manovrabilità della corona è elevata avendo appunto una corona bella grossa ne ho avuti 4 di Kaki Field figurati 4 ne ho avuti 4 il Hamilton Kaki Field automatico da 38 da 40 da 42 e il manuale da 40 e poi ne ho avuto anche quello da 45 44 che però quello non è Kaki Field si leggono si leggono benissimo il problema dell'antiriflesso più che altro è quando devi fare le fotografie o quando devi fare le riprese o in determinate particolari situazioni di luce ma proprio raramente perché altrimenti la leggibilità è ottima vengono fuori in questa situazione qua come tanti altri orologi io per ogni orologio che ho per le mani faccio delle riprese mi accorgo che certi è un piacere starle a riprenderle li riprenderei per ore starei lì a guardarli per ore guarda come viene bene così faccio anche tante di quelle riprese in più rispetto a quelle che utilizzerò perché vengono bene quando poi ci sono mi ricordo un'eterna quello il tartarugone quello dedicato maietec quello lì è stato un piangere proprio non ne veniva fuori una bene con quel vetro bombato che rifletteva da morire che poi ripeto durante le riprese fanno così poi dal vivo si utilizzano tranquillamente anche quell'eterna lì era tranquillamente utilizzabile bello veramente un ottimo orologio ottimo orologio successivamente acquisto questo Seiko Alpinist certo con il quadrante verde orologio che a me è sempre piaciuto per quanto mi riguarda forse uno dei Seiko più belli mai realizzati addirittura perché comunque è unico un design che è riconoscibilissimo ti voglio raccontare un episodio in quanto prima di di questo Seiko a marzo di quest'anno ho acquistato un Seiko Turtle la scimmia era impazzita per il Seiko Turtle è arrivato il Seiko Turtle dalla scimmia la scimmia si è trasformata in tarlo nel senso che io avendo un polso da 16 cm e mezzo 17 barra d'estate e l'orologio da 45 cm iniziava a pesare nel senso il tarlo diceva questo orologio è grosso ti sta male effettivamente era un orologio un po' troppo importante per il mio polso almeno io l'ho vista così successivamente lo vendo dopo due mesi e finanzio questo Seiko Alpinist bravo ho fatto bene un orologio veramente bello fatto bene la cassa è un piccolo gioiello insomma e succede ragazzi succede ora non te ne devi fare un crucio succede di comprare degli orologi pensare che insomma ci stiano bene al polso che sarà l'orologio della vita e poi come si suol dire scatta la scintilla come la classica frase fatta la realtà dei fatti è quella cioè ti rendi conto prima è un pensiero che si insinua lentamente poi dopo diventa un masso gigantesco che non ti va più quell'orologio lì che ne devi prendere un altro succede anche a me è successo mi succede mi succederà vedrai prendi ora finché si tratta poi di orologi insomma sotto una certa cifra ti muovi anche facilmente agilmente nel vendere rivendere 600 500 trunc ci perdi quando incominciano ad essere orologi da 6-7 mila magari dopo arrivendolo rimetterci sopra altri soldi per prendere qualcosa diventa più complicato finché siamo in questo range qua poi l'alpinist sì ora ti hai detto che è il migliore orologio di secco io non lo so se è il migliore cioè quello che ti piace di più io non saprei dire di sicuro di sicuro la motivazione che hai dato è vera perché è uno di quelli più riconoscibili dai c'è poco da dire nel marasma di orologi che si assomigliano un po' tutti uno con l'altro l'alpinist è quello che è uno di quelli che riesce ad avere una propria identità ora mentre lo dicevi io pensavo qual è l'orologio di seiko che mi piace di più io torno sempre ai soliti a quello con la cassa da 62 mas quello lì classico però mi sono venuti in mente anche quei sarbe che sono fuori produzione che però sono un pochino più anonimi cioè un pochino più assomiglianti a qualsiasi altro modello di qualsiasi altra casa volendo mi sono venuti in mente anche quelli poi non mi viene in mente altri presagio c'è una marea che non potrei identificarne uno a volte anche la troppa offerta mette in difficoltà è controproducente secondo me presagio quanti ce n'è? una marea di presagio cocktail contro cocktail boh l'accusa che mi mi ha sempre diciamo fermato è stato il quadrante verde avevo paura ancora magari mi poteva stufare verde ora benissimo in realtà questo quadrante è di un verde scuro rispetto al sarbe ci diciamo deve andare proprio sotto la luce del sole per poter vedere quel verde proprio acceso in realtà come vedi come cambia angolazione di luce è un orologio abbastanza versatile anche lui ma certo un bellissimo seico questo successivamente l'ultimo acquisto è stato Yeman Superman Heritage questo orologio monta l'età 28-24 addirittura è peggio è un 38-39 mm adesso non ricordo 29-39 suppongo due difetti di questo orologio il primo diciamo il primo è un difetto perché comunque troppo lanierino vedo qui ma da sì il secondo è che questo bracciale tira i peli in merito questa cosa del bracciale che tira i peli me la sento non di questo ma anche in altri modelli mi ricordo il vostro oppure un altro modello o quell'altro a me non è mai successo con nessun orologio di questa cosa di fartiare i peli ma cosa ce l'avete siete delle scimmie voi non ce l'avete sulla spalla siete voi a questo sistema di bloccaggio della ghiera un utente in un tuo video diciamo solleva la questione in quanto si chiedeva se poteva svitarla in ambienti acquatici allora la casa madre Yema dichiara un'impermeabilità a corona completamente estratta di 10 atmosfere di conseguenza l'orologio può essere la corona può essere estratta in ambienti acquatici tranquillamente perché chiaramente non fare tuffi eccetera ora 10 atmosfere a corona estratta è veramente tanto ragazzi è veramente tanto a corona estratta io per esempio gli Omega sono 50 metri 5 atmosfere a corona estratta 5 atmosfere te le garantiscono ma io ora non voglio fare un paragone i controlli che fa Omega con Metas veramente scrupolosi al millimetro al decimo di millimetro ci credo che mi offrano una cosa del genere quando uno mi dice 100 metri è una cosa empirica una prova fatta sarà reale comunque ci credo ci credo però permettimi di considerare maggiormente attendibile 50 metri di Omega piuttosto che 100 di Yema ok c'è anche da dire che ho avuto esperienza con un orologio di cui non dirò la marca orologio intorno ai 1000 euro che con la corona estratta non completamente estratta svitata perché la lancetta dei secondi continuava a girare mi sono lavato le mani sotto un getto d'acqua dolce a caduta libera nemmeno a pressione a caduta proprio e poi dopo ho visto l'alone di condensa all'interno del vetro cioè a corona estratta non mi ha retto neppure ed era 200 metri non mi ha non mi ha neppure retto la caduta dell'acqua succede benvengano quelli che garantiscono un minimo di impermeabilità anche a corona estratta a questo punto test che ho eseguito personalmente io a mare l'orologio ha retto benissimo e non ha ricevuto nessun tipo di conseguenza di genere fatto piuttosto diciamo un pro nel senso che qualsiasi orologio o almeno la maggior parte a corona completamente svitata dovrebbero avere un'impermeabilità pari a zero no lui ha un'impermeabilità di 10 atmosfere di 100 metri che ti dà la possibilità di appunto ruotare la ghiera va bene che poi in realtà per poter ruotare la ghiera serve un mezzo giro della corona non deve essere completamente estratta ok praticamente si deve solo allentare questo fermo in modo tale da far girare la corona e poi riavvitare la scusami la ghiera e poi riavvitare la corona diciamo un sistema ad oggi inutile in quanto quando questo lamierino è sbrogliato dalla sua morsa la corona è comunque unidirezionale non torna indietro quindi non serve bloccarla è semplicemente una questione estetica per far ricordare i vecchi modelli che erano unidirezionali questa è comunque una corona unidirezionale ho un vetro zaffero bombato bellissimo vetro zaffero un orologio che mi è piaciuto immediatamente veramente un bel orologio l'ho trovato a un buon prezzo bene con questo ho finito spero che pubblicherai questo video ti mando un grande in bocca al lupo per il tuo canale sei grande ciao Davide ciao ciao carissimo ciao ciao ora hai detto una cosa che io non mi sento di condividere tutti gli orologi a corona aperta hanno zero hanno zero no un minimo di impermeabilità ce la devono avere ce l'hanno una guarnizioncina c'è sempre lì qualcosina devono tenere non è che ti deve assolutamente entrare per forza zero no dai non è che apri la sviti o apri la corona e vedi la luce dall'altra parte qualcosina ci deve essere che impedisce l'acqua di entrare poi se aumenta la pressione o ci butti il getto sopra è un altro discorso comunque la tua collezioncina simpaticamente io gli do un sei e mezzo io oggi ditemi che sono di manica larga ditemi allora se per voi sono giusto e corretto sono giusto tra i giusti scrivete sei sei vuol dire che io sono giusto nei voti oggi altrimenti qua ci avevi lo Yema il Seco Alpinist che va benissimo Seco Alpinist Yema il ProMaster un bel cacchi 4 orologi 6 e mezzo di più non ti posso dare sarei ingiusto nei confronti degli ingiusti prossimo video ciao Davide complimenti per il tuo canale che seguo seguo spesso e complimenti anche per te che sei una persona voglio dire molto preparata e molto simpatica però sembra che allora ti voglio far vedere stai per morire puoi chiamare la mia semplice piccola collezione allora partiamo con il primo e questo orologio degli anni 60 precisamente del 1968 bello bello assai 34 mm che di la referenza è 11005 vetroplexi oro 18 carati col suo addiglione tenuto diciamo tenuto discretamente un bijou una chicca però un po' di brio che te passiamo al secondo il secondo è questo è un sempre vetroplexi sempre 34 mm di diametro 18 carati questo diciamo come anno è un 1978 referenza 1503 anche in questo caso con il suo artiglione originale tenuto e conservato diciamo in modo discreto 234 mm questo è l'ultimo speriamo di aprire la scatola senza fare dei danni ecco che bellino questo è il il terzo è sempre 1503 questo è full gold 34 mm 18 carati la particolarità di questo sta nel bracciale rivetti completo addirittura 13 maglie a me piace 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 tanto e basta ecco anche questo è tenuto tenuto molto bene e questo diciamo è l'ultimo arrivato nella mia diciamo mia collezione chiamiamola così da appassionato intendiamoci io ti ringrazio se vorrai pubblicare questo video certo veloce pratico e niente risentiamoci sperando nei miei prossimi acquisti grazie un saluto un saluto a te abbiamo il collezionista di rolex date eccolo qua si è focalizzato su questo modello da 34 mm in oro testa in oro l'ultimo che col bracciale in oro che tanta roba ti do un 8 ti do un 8 per solo questi tre pezzi che in realtà non rientrano nei miei gusti cioè voglio dire è bello collezionarli tutto quello che vuoi ma non me ne farei di niente di un rolex date da 34 mm sinceramente ora la fortuna è di chi ha il pulso piccolo ragazzi che si può permettere poi di andare a comprare questi orologi da 34 e gli stanno anche bene perché quelli da 34 i rolex da 34 mm così in oro sinceramente non raggiungono le quotazioni di quelli con diametri maggiori no quindi devi ritenerti fortunato perché con un minore sborso di soldi riesce a toglierti degli sfizi a collezionare dei signori orologi come in questo caso il rolex date mi sembra un po' esagerato averne tre però vabbè c'è le varie annate vuol dire che stai collezionando quella roba lì e poi avrai anche altri orologi non lo so ha senso cioè ha abbastanza senso 8 te l'ho dato altro da aggiungere non ho se non che quello full gold anche con il bracciale in oro al di là di tutto può essere anche indossabile perché a volte si pensa un orologio col bracciale testa in oro bracciale in oro è difficile da indossare no è pesante in quel caso lì un 34 mm e poi ho visto anche che è sottile è abbastanza leggerino il bracciale non è che sia così massiccio no da rapper è abbastanza potrebbe anche sembrare fine al polso poi dipende anche dalla persona no dall'abito se sei una persona distinta affabile magari anche di una certa età che va in giro vestita in un certo modo fai la figurona con quello lì ci vado io magari sembra che ho l'orologio della comunione di mio nipote e faccio il rapper vestito con i tatuaggi no dipende anche un po' dal contesto comunque dai attendiamo i tuoi hai detto risentiamo ci risentiamo ci sono qua apposta ci risentiamo e mandi altri video dai ciao davide sono Stefano dalla provincia di Cosenza e voglio mostrarti questo magnifico dress watch è natale cartoline j'ai j'ai le cult ultra piatto a carica manuale no come si chiama sto modello un calibro 849 da uno spessore di 1,8 mm più o meno niente auguro a tutti buone feste love che bello questo ciao caro davide ciao un saluto da Roma io sono Joe e ti faccio vedere una cartolina della città che comincia ad addobbarsi per il natale e ti mostro un orologio che ho cercato tanto è stato il mio Longin Flagship ho controllato sul tuo sito ho trovato un mercatino dopo averlo cercato per una vita in condizioni quasi nosse con questa satinatura verticale questo blu che si chiama manto di Madonna strano trovare un orologio che bello svizzero del 1974 così sembrerebbe poi dal tuo sito che ho consultato l'ho trovato originale con il suo cinturino il lucertolo originale questo in realtà io l'ho sostituito ti saluto e come dire una cartolina affettuosa da Roma è rock and love ciao Davide buone feste ciao 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 Davide ciao sono Luigi da pochi mesi diventato appassionato di questi ferri come li definisci tu e niente da poco ho restaurato questo orologio di mio nonno bravo pensa che gli è stato regalato da allora la sua fidanzata che è poi diventata mia nonna nel lontano 1960 come regalo di fidanzamento da allora non l'ha più tolto come vedi porta i segni del tempo che bello io ho cercato di fare un restauro conservativo gli ho cambiato il vetro giusto perché l'ha spopolato una bella revisione alla sua fioritura la cassa non l'ho toccata ai suoi punti ma mi va bene così perché porta i segni lasciati da mio nonno che oramai da un po' non c'è più e niente volevo condividere l'emozione che ho provato per la prima volta a fare l'albero con i miei bimbi con lui mi è dato tanto a gioia buon Natale alla fine secondo me questi segnatempo sono proprio è questo allora il senso segnare il tempo e poi sta a noi non farlo fermare insomma ti saluto Davide un bacio ciao e tanti auguri ciao Davide ciao a tutti sono Andrea di Roma e vi mando questo video dagli Champelize di Parigi ero qui in vacanza con la mia famiglia ma purtroppo la scimmietta si è infilata nel bagaglio a mano e dunque mi sta portando in giro per tutti i negozi di noccioline qui di Parigi non so come fare ma si dovrà accontentare del legend diver che abbiamo portato tanta roba ciao e buone vacanze a tutti ciao ciao buone vacanze ciao Davide sono Giuseppe da Palermo in trasferta da Livigno per le vacanze sulla neve con il mio acquaterra acquaterra mio calibro 2500 bello del 2005 e c'è anche io uguale con me a sciare su questa meravigliosissima neve bravo ciao a tutti un saluto a te e alla community bye bye alla community alla community bye 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 belle 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 queste cartoline dalle vacanze soprattutto per quanto riguarda l'amico con il lanco deluxe modello 11 deluxe del nonno a fare l'albero con i nipoti che quindi per i nipoti il tuo nonno sarebbe bisnonno però loro non l'hanno mai conosciuto però c'è l'orologio del nonno lì che sta a rappresentare il trait d'union delle varie generazioni mi emozionò anche a parlare di strobino bravo bello mi ci è piaciuto è l'ultimo amico con l'omega acquaterra che non si sa perché lo porta lì sulla neve cioè tra i tanti orologi io sulla neve ci porterei un diver si sa mai si scioglie la neve c'entra l'acqua vabbè che l'omega acquaterra c'ha la corona vite 150 metri di impermeabilità quindi per l'amor del cielo però forse ho voluto portarlo perché è un orologio da monti e da riviera come si suol dire potrebbe fare il suo dovere durante la sportiva discesa sull'isci come poi la sera in baita col bicchierino track l'acquaterra fa la sua figura è l'everyday l'everyday watch dai ci sta mi rimangio tutto bravi ragazzi per le cartoline che sono sempre simpatiche mi raccomando davanti all'albero davanti al presepe con i pacchi già fatti queste cose qua così che ci danno il camino che ci danno la sensazione del caldo del caldo natale merry christmas dai buon natale a tutti via cominciamo già a portarci avanti io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e vi ringrazio per essere arrivati fino a qua ora vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love this is not a christmas this is not a christmas song the christmas tree's on fire santa's holding the lighter my parents are both liars i got gifts but one subscribers thanks for the candy basket